eccoci merda mettiamo tre colori molto simili c'è una brutta notizia c'è una bruttissima notizia io non posso usare le armi cosa? io non posso usare le armi posso solamente portarvi cure ma che cazzo vuol dire? siamo rovinati zi e sei l'unico che avrebbe fatto qualcosa stiamo sotto il cipresso c'è ti è andata proprio male allora perché io per farti capire la mira mia sui videogiochi ma anche nella vita vera io non riesco manco a beccare la tazza del cesso è giocatore ancora a 98 dai 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 cazzo porto guarda un attimo vado a prendere una fettina di salame allora ste comunque ti dico ora che non c'è frene tu immagina che quando l'handi è come se è uno che è sempre sotto effetto di bamba ok? che non capisce nulla di quello che c'ha per le mani proprio lì che si smaneggia contai l'ho tenuto d'occhio i primi due game cioè te lo giuro ho cercato di provare a tirarlo via da San Patrignano ma non ce l'ho fatta purtroppo è tutto nelle tue mani perdono non c'è un cert portatile no non c'è niente ti dico prima avergli dato il martello è stato l'errore più grande che potessero fare non c'è da dargli un cazzo deve stare proprio così giù beh allora da quel punto mi prendo due martelli se li troviamo bravo che avevo trovato il martello e quello è comodissimo all'inizio soprattutto per telarsela andare via ci siamo ci siamo no regà ma voi non potete capire c'è sta sto salamino che c'è è clamoroso io non lo so da dove cazzo viene ma c'è qualcosa che che me lo ficcherei veramente in culo no no come si chiama come si chiama non lo so è un salame messa a Reggiano perché gliel'ha fatto la madre della ragazza mia la famiglia mia ma è clamoroso cioè io me lo veramente me lo chiaverei in culo ce la volemo ributta qua si raga là è un bel posto cioè ci sta le robe le avevamo cioè semplicemente non ce la siamo gestita bene guarda mi sono messo anche il cappellino da pokerista quelli serie per non farsi vedere negli occhi esatto ok dove ci buttiamo in quale di quei pinga ping rosa regà comunque c'è gente eh sì sì ma sono cioè c'è liberi da noi sì ma liberi cioè io per liberi intendo quando uno è libero che c'è un lama raga e come cazzo lo faccio da prendere da prendere calmo 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 non posso farlo non spaventarlo non spaventarlo è qui al lago l'ho visto ma è un'altra ce ne sono due allora due? puttana freni vieni con subito freni devi venire io ce so ho uno scar che sono riuscito a prendere freni questa arma vieni fammi sto e prendi anche questa ok non vado la cazzo con me eh lo vedi sto lo vedo lo vedo fuggiamolo tutti insieme vi prego ingazzalo ingazzalo no no se lo fa se lo fa se lo fa no non se lo fa perché va giù scambia la mitraglietta la mitraglietta la mitraglietta freni dai 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 oh vai cazzo dai cazzo così se vado nel moto l'abbiamo presa l'abbiamo presa prendi su tutto prendo quest'altro prendo quest'altro venite da me c'è un altro dai cazzo così ci stiamo messi da dio ma mi sa che non posso ma qua sopra raga hanno spaccato siete impazziti raga non posso portare ok siamo pronti abbiamo il loot che ci serve mi serve solamente l'assalto con l'altro a me mi servirebbe una mitraglietta buona mitraglietta buona qua ce n'è una cazzo ho lasciato i colpi del pompa ti troppo io colpi pompa però dimmi darci no no aspetta aspetta ce l'ho ce l'ho a posto mitraglietta blu raga vediamoci i colpi a R stai tieni qua i colpi ma perché non mi da mai il bonus del prendi prendi stai prendi prendi ma non è che schifo la batteria del pad che merda ho chiamato tutto il freno raga siamo pieni raga stiamo curlati eh abbiamo doppio cannone cioè mi serve solo la R quello con gli occhi rossi le gente del lago stanno crossando stanno attraversando il lago eh sparategli ma dove? hanno attraversato qui sotto di noi sono? no da un'altra parte ah ok lontani allora però probabilmente buttano alla torre eh ma c'è un'arma un po' sì sulla torre sulla torre non andate lì sì c'è l'arma migliore dello scar è l'altro quello col mirino adesso direi che potete aspettare e provare a killarveli questi i misteri della torre secondo me ci sta anche provare a killarseli ma quali? dov'è che stanno qua davanti? ecco l'eccolo guardalo guardalo raga ve lo killate ve lo giuro lì è piantato a terra 1 praticamente 108 l'ho fatto davissimo l'ho fatto proprio male sparate sparate continuate a sparare 27 ancora secondo me ancora una maggiore terra bravissimo io vado raga sì sì aggrediamo aggrediamo guardali 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 hanno sbagliato tutto arrivo io li sto a pushare di cattiveria vai 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 di cattiveria vai 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 rega non posso morire copritemi le spalle una dietro la una qua ok questi li ha ammazzati tutti e tre devi venire qua sta scappando senza armi aspetta aspetta oh no porca merda vai tranquillo vai tranquillo te lo fai te lo fai sei full vita no 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 c'è un altro c'è un altro c'è un altro dove è? da me da me ce n'è uno senza armi non può sparare arrivo 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 è da me che scappa senza armi bravo bravo 95 white 95 white è l'ultimo in vita è l'ultimo in vita l'altro l'hai killato? l'altro l'ho già killato sì 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 ok dove sta? l'ho picconato eh ci sto provando continuo a scappare sto stronzo non ci posso credere raga sta continuando a scappare è da fare è da fare dovete venire è morto è morto è morto è morto mi sa è morto? godo la caduta? sì si è morto di caduta ci godo mi prendo il cazzo in mano mi sa me lo sveglio devo cercare il loot di quello lì sono arriva la pizza vai vai venite raga riuniamoci il prima possibile è un buono start infatti continuiamo frene vieni qua a ciucciarti sta roba che è bella buona sì sì venga a ciucciar tutto zio prenditi quest'arma che è col mirino e qua che c'è? il pompa viola? prendi no il pompa viola io mi prenderei oh mi sparano no 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 qua non è bello ragazzi sono lontano e arrivo non è bello ci pushano ci pushano ste venite in qua da sopra da sopra la montagna frene ho il piccone in mano non può sparare dobbiamo stare fermi dobbiamo stare fermi dobbiamo aspettare lui non possono usarlo sto lanciaparanate cosa stanno facendo non possono guardalo guardalo frene va a vomitare sparagli sparagli perché gli corri sparagli bravo bravo lo ho fatto aiuti lo ho fatto cazzo c'è un altro una pizza c'è un altro una pizza lo l'ho ucciso guardalo guardalo l'ultimo è un drone te lo fai te lo fai spara io oh ma no ce l'hai ce l'hai ce l'hai vedi che passeggio morto 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 dai gatto dai 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 tirate me su e andiamo a terra a pecora trombatono a riley siamo belli compatti vai corriamo così seguiamoci facciamoci il barile qua e andiamo avanti oh ci abbiamo pure 6 killette se riuscimo a fare la posizione prendi al posto della mitraglietta sta pistola è fortissima al posto della mitraglietta si questa qui spara automatica guarda tieni premuto il tasto te l'ho premuto te l'ho premuto ok hai capito si 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 passiamo dalle fratture eh passo si da lì da lì da lì dobbiamo fullare il freno col barile con il coso qua io ce l'ho lo scudo però del barile io ho uno scudone gigante portatile portatile qua è buonissimo lo prendo dobbiamo splasharci tra poco raga splashiamoci vai guardali stai dietro stai dietro stai dietro stai dietro tranquilli c'è tempo venite giù da me raga prendete sta cosa venite giù con calma andando via si si prendi e fatti questo fatti sto mi hanno fatto molto male venite giù raga venite giù venite da me qua 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 andate lì e curatevi con calma ora prendiamo due a posta giusto? si ma tutto so come fa ma sta in 67 ancora ok dobbiamo andare a sinistra ancora ma sbaglio proprio una prata a taggarci si han provato forse seguitemi c'è un tutto il giro con calma ho due cariche di splash sto carico a molla vediamo la situazione e poi decidiamo cosa fare davanti a noi qua va qua state sotto state sotto stai calmo stai calmo non ti vedono loro e noi siamo a sinistra noi siamo hanno visto tranquilli tranquilli sono lì sopra il tetto sopra il tetto sento eh si si traccato mi hai fatto molto male mi hai fatto molto male aspetta aspetta non fartelo da solo non dovete panicare adesso raga se panicate la trolliamo io ve lo dico ok io non mi serve vita qua lo so e non dobbiamo fare tutto insieme non dobbiamo giocare da sole ok ora dobbiamo fare un po' di splash andiamo venite qua seguiamo il capitano la stanno pushando in safe spero di no 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 tranquillo però voi dovete iniziare a correre cioè dobbiamo iniziare a correre dritto per dritto ora ok minchia qua c'è stata una rissa pesante ok perfetto per fortuna loro ruotano dal di là venite in sto cespuglio e poi andiamo avanti davanti a noi mi sa che stanno subendo no no è vero il storm surge è impossibile vieni qua facciamo tutto il barile c'è tutti anche te vai così vai così ok ora avanti alla sinistra raga prendiamo sto rift per rift è la nostra giocata quel rift andiamo però c'è gente in quel cespuglio infatti io ho il martello calma 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 usate gli alberi usate gli alberi calma mi hanno fatto molto male posso tirar lo scudone gigante io posso lanciarmi col martello là dentro ci guardano devi evitare lo stesso se riesci corriamo nel rift correte nel rift correte nel rift vi metto un bunker me l'ha messo sott'acqua correte non me l'ha preso non me l'ha preso come non te l'ha preso ok si si seguitemi in area seguitemi in area con calma io ti sto seguendo mi stanno provando a focussare non è un problema adesso trovo un buco dove mettermi questo rift ci sta svoltando tutto cosa allora rimanete in area andiamo qua gente qua gente qui sotto venite da me venite giù venite giù qua dentro sono da te sono da te è libero è libero fatemi li vedo vedo gente vedo gente fuori a nord est mirate 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 dovete sparare tutto quello che avete raga è il game migliore che possiamo avere arma in mano e sparate e basta fuori safe a terra bravo bravo dai cazzo 27 white provate a sparare tutto quello che potete 27 white 50 preso 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 bravo è mazzato si è morto è morto confermato correte ora correte dobbiamo andare cazzata rimanete qui rimanete qui rimanete qui guardate questo ragazzi fermo lì ce l'ho ce l'ho staccato 128 bravo 31 white è morto tocca a pusharlo vai 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 32 white di nuovo arriva il team arriva il team vai vai li facciamo li facciamo vai 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 tranquillo tranquillo no 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 quello che a terra è quello che lui non può sparare gravissima devo andare via ragazzi sono lontano da voi dobbiamo io ho il bug della slowness ho il bug della slowness ho il bug della slowness usa il martello nel caso è che io vorrei giocare per te per aiutarti devi riuscire a usare il martello teste ti devo ti devo piccare in un mio bunker mi sto lanciando via più possibile arrivo da te sono nell'acqua sto per morire sei morto si sei morto 42 vita sono in mezzo ma porca troia sono in safe non possono uccidermi però ok sto provando a correre da te ma che te sei inventato quiz oh mio dio mi sa che mi stanno venendo a prendere oh mio dio cazzo oh porca merda dai ho rovinato la giornata ho rovinato tutto scappa 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 cristo oddio no si ma cos'è sta roba dai vabbè oh però questi sono punti questa è buona questa è buona raga questa è buona è buona ah si sono 7 kill no 14 so 14 più 6 so 20 questa non è male non è male per niente questa